Un museo non mostra tutto e lo mostra tutto contemporaneamente, a volte è un po' nascosto, come io da questa colonna, a volte riemerge con le sue collezioni e lo fa perché, questo è lo scopo del museo, non far vedere tutto subito, ma fare vedere quando serve, a chi serve e come serve. Un nuovo suggestivo allestimento ai musei civici di Bassano mette in nuova luce la sala che raccoglie i costumi di scela originali del grande baritono bassanese Tito Gobbi, pezzi di storia della lirica italiana che hanno calcato i principali palcoscenici del mondo. Abiti di scena, essi stessi capolavori, degni di aprire uno squarcio su uno dei nomi che fanno ancora sognare i melomani del pianeta e che richiamano a un'epoca leggendaria. Un artista tutto tondo che non dimenticò mai le sue origini di Bassano, con cui manteneva un forte legame affettivo. Fortissimo, un legame fortissimo che ha anche trasmesso alla famiglia. Lui, quando cominciò ad avere successo tra le prime cose che ha fatto, è stato venire a cantare a Bassano, una recita qui, un rigoletto, un qualche cosa. C'era un teatro che adesso non c'è più, poi c'era l'Astra all'epoca e venne a fare queste recite proprio per amore dei concittadini e ci sono questi documenti storici in cui gli fu pagata la recita e lui la lasciò proprio per la cittadinanza. Un piccolo gesto, per carità, però è una denuncia d'affetto. Il Museo Bassanese amplia quindi la sua offerta, mettendosi al passo, sala dopo sala, con le esigenze museali del XXI secolo, che appunto vanno molto di là di un contenitore per conservare, ma vedono il museo in un organismo vivo, a volte palpitante. Il museo, come tutti i musei, non solo quello di Bassano, ha bisogno di continuare a studiare, di continuare a promuovere le proprie collezioni permanenti e di cercare di avvicinare tutto il pubblico, senza distinzioni di tipi, di tipologie di pubblico. Questo è quello di cui hanno bisogno tutti i musei, tenendo presente una cosa, che quello che si fa in un museo non è solo conservare, ma è produrre cultura, perché in futuro ci sarà bisogno di tramandare qualche cosa e non sarà semplicemente tramandare quello che noi abbiamo conservato bene, sarebbe troppo poco. Noi dobbiamo tramandare qualcosa in più, quindi dobbiamo produrre cultura come se fosse una fabbrica. Grazie a tutti.